Piatto a Reggio Emilia, discreto con Lentella, pessimo a Fermo. Sono 5 i punti di ritardo da Lentella che nel posticipo ha nettamente battuto il Siena. Ben 7 dal terzo posto occupato dal Cesena. Pesaro, nuovo spartiacque della stagione. Serve la vittoria senza se e senza ma. La mediocre prestazione di Fermo è più di un campanello d'allarme. Dopo 27 giornate il Pescara non è ancora una squadra. Finora oggettivamente il tecnico non ha inciso. Sono sprazzi grazie alle giocate dei singoli. I biecazzurri continuano a subire golle e fanno fatica a creare. Nelle ultime tre gare all'attivo appena una rete su calcio di rigore. Al Benelli senza lo squalificato Ferrari. Gli infortunati delle Monache, Chiarella e Memuscei. Out anche Giambo. Il probabile 11 Sorrentino Trepali. In difesa Zappella, Ingrosso, Drudi e Veroli. che in realtà da centrale, intuizione del tecnico della primavera, Gigi Iervese, è sicuramente un'altra cosa. Da laterale, così come è stato impiegato nelle ultime due partite, non rende per caratteristiche allo stesso modo. A centrocampo, Pompetti e Dirisio. Più alto puntisso davanti Clemenza e Dursi. Ha supporto di Cernigoi. Rauti dovrebbe partire dalla panchina. Vis Pesaro, settima in classifica, in piena zona playoff. 26 gol fatti, sesto peggiore attacco del girone. 33 subiti, due in più di Biczzurri. Squadra organizzata, fisica e aggressiva. Occhio agli strappi e alle accelerazioni di Saccani, che sulla fascia destra è spesso dirompente. Banchini deve rinunciare agli squalificati Cusumano, Gucci e Aquadro, ex Pineto e Notaresco, arrivato a gennaio dal Siena. Il probabile 11, Farroni, ex L'Aquila, Trepali, Piccinini, Gavazzi e Ferrini nel cuore della difesa. Sulle fasce Saccani e Denuzzo. A centrocampo, Besea, Coppola e Astrologo. In attacco, De Respinis e Cannavò. L'ultima volta a Pesaro, 11 maggio 2003. Serie C, giornata conclusiva della stagione regolare. Un mare di tifosi biancazzurri. Testa a testa per la promozione diretta con Lavellino, che sul campo del Crotone, allenato proprio da Gaetano Auteri, mette subito al sicuro il risultato, con un gol di Marra. I biancazzurri si impongono agevolmente nelle immagini, le reti di Palladini, Apa e Cecchini, per la viscazzola. Serie B tuttavia rimandata solo di qualche settimana. Nel playoff contro San Benedettese e Martina Franca, l'apoteosi del Delfino, targato Ivo Iaconi.